Sarà un progetto civico quello che sosterrà il dottor Cosimo Cannito alle elezioni comunali di Barletta. Sul tavolo politico di ieri Cannite è intervenuto in prima persona insieme al segretario dei socialisti Mezzina e in rappresentanza delle forze politiche che hanno già sottoscritto l'accordo con lui e cioè la buona politica, area popolare e lealtà e progresso per Barletta, lista che fa riferimento all'assessore Michele Lasala, esponente della Puglia in più. Agli altri partiti intervenuti, PD in primis, è stata generosamente offerta la possibilità di aggregarsi ma rinunciando ai simboli in coerenza con il progetto politico che si intende perseguire. Con l'incontro di ieri si è sicuramente superato il punto di non ritorno, Cannito ha giocato di anticipo ed ora sono gli altri che devono decidere il da farsi. Il PD che comunque vadano le cose non rinuncerebbe mai al proprio simbolo a un suo candidato, il dottor Sandro Scelsi, dovrà decidere se ritirarlo per andare su Cannito oppure con una propria coalizione che potrebbe contare sulle due liste civiche che fanno riferimento al presidente della regione Emiliano e alle due civiche organizzate dai consiglieri che hanno lasciato il centro-destra raccogliere la sfida di Cannito facendo direttamente nelle urne quelle primarie che Cannito ritirandosi non ha più voluto fare a febbraio. Oggi dovrebbero riunirsi i vertici del partito per definire un primo orientamento da sottoporre alla decisione vincolante del direttivo. Facile immaginare che avrà molto peso l'opinione dei due consiglieri regionali ma Cannito che si muove a 360 gradi attende risposte anche dal centro-destra che appare più disponibile a rinunciare ai propri simboli per dar vita ad una coalizione che per una volta lo faccia vincere dopo 25 anni di sconfitte. Il neo-senatore Damiani, tornato oggi da Roma, ha ricevuto mandato dalle altre forze di centro-destra per incontrare Cannito e valutare se esistono ipotesi per un accordo. Questo fine settimana dovrebbe chiarire molte cose, soprattutto se la strategia dei due forni adottata da Cannito pagherà come al momento sembra o no. In realtà presumibilmente il vero tentativo è proprio quello di isolare il Partito Democratico che dopo il risultato delle politiche appare incerto, balbettante e con una consistente quinta colonna al suo interno. Siamo comunque nella fase cruciale anche perché il tempo stringe, comincia a stringere anche per i 5 Stelle, sempre in paziente attesa della certificazione della propria lista, i vertici del movimento ne hanno ricevute due e con molto comodo stanno decidendo quale scegliere tra quella guidata dal professor Michelangelo Filannino e quella guidata dall'avvocato Michele Tedeschi. Una lentezza che sta facendo perdere tempo prezioso a chi alla fine dovrà competere impedendogli l'inizio di una campagna elettorale che, visti i chiari di luna e la confusione che regna negli altri schieramenti, potrebbe riservargli un ruolo di assoluto rilievo.